La balbuzie è un disturbo complesso del neurosviluppo. Il DSM-5 va a individuarlo all'interno dei disturbi della fluenza, non del linguaggio. L'ansia è conseguenza della balbuzie, è conseguenza delle disfluenze. In realtà sappiamo che c'è una multifattorialità che ha a che fare con la balbuzie, quindi sicuramente c'è una componente genetica, ma deve esserci anche una componente che ha a che fare con l'ambiente, quindi come l'ambiente risponde al bambino, alla persona che tende ad avere queste disfluenze, c'è una componente che ha a che fare con il linguaggio stesso e una componente psicomotiva propria dell'individuo. La maggior parte dei bambini sviluppano la balbuzie fra i due anni e mezzo e i quattro, proprio perché ha a che fare con il neurosviluppo. Ci sono però anche persone che iniziano a balbettare a 5 anni, a 7, a 15, a 25. Ci possono essere, come dire, degli eventi che hanno a che fare con un trauma vissuto, sono molto rari però. Sicuramente la cosa che possiamo dire è che l'intervento precoce, questo soprattutto per i genitori, è fondamentale. C'è veramente una finestra magica che dobbiamo sfruttare nella fase prescolare, quindi entro i sei anni d'età. Quindi i primi sei mesi, anno dall'esordio, c'è da tenere monitorato il bambino, c'è da portarlo da uno specialista, non necessariamente per iniziare da un intervento, ma sicuramente perché possa lui stesso valutare se è il caso di iniziarlo o tenerlo ancora monitorato, perché magari c'è la possibilità di una remissione spontanea del sintomo. Sappiamo che la valbuzie per il 75-80% dei casi può avere una remissione naturalmente spontanea, ma se dopo i sei mesi, anno, la cosa persiste, bisogna assolutamente intervenire, non aspettare i sei anni, quindi iniziare 7-8. Chi interviene in maniera precoce ha la possibilità di un rientro, di agevolare questa spontaneità nel rientro dei sintomi. Quali sono gli errori che un genitore può fare in questa fase? I genitori possono fare tante cose corrette e qualcuna scorretta. Quelle scorrette, da sua richiesta, sono sicuramente far notare al bambino che si sta inceppando, anticipare le parole che abbiamo già intuito che vorrà dire, quindi lo vediamo in difficoltà e per aiutarlo, per dargli quel sollievo momentaneo, cerchiamo di dire noi le parole al posto suo. Altri errori che si possono fare magari sono quelli di dare consigli ai bambini, sempre per aiutarli, quindi c'è sempre un impulso all'aiuto, a toglierli dall'imbarazzo, ma per esempio dire stai calmo, respira prima di parlare, adesso dillo più lentamente, pensa bene prima di parlare. La cosa migliore che possiamo consigliare ai genitori, agli insegnanti anche, è quella di guardare il bimbo che sta balbettando, focalizzando la loro attenzione sul contenuto, sul messaggio, su quello che vogliono davvero trasmettere, come se fosse fluido, non facendo finte di niente, ma guardandolo al di là del blocco. La maggior parte di noi che abbiamo vissuto, viviamo alla balbuzie, non balbettano quando cantano, ma neanche un attore che sale su un palcoscenico. Quando sei sul palco e che tu canti, che tu reciti, sei molto presente in quello che stai facendo, sei molto dentro nel caso del canto a quel suono, a quella lettera che devi associare a quel battito, al ricordo del contenuto della canzone stessa. Non hai tempo di pensare, oddio quello mi sta guardando, non si attivano vecchi meccanismi o abituali meccanismi. Dottoressa, lei è una psicologa ma è anche fondatrice di questo metodo psicodizione. Come agisce, come si affronta la balbuzie e come si supera quindi la condizione di disagio che crea? In psicodizione, che è la metodologia che noi utilizziamo, lavoriamo su questo. Lavoriamo intanto su un percorso tecnico, nel senso che devo ridare alle persone, bambini, adulti, ragazzi che siano, il controllo sui loro suoni. Spesso e volentieri chi balbetta tende a avere paura poi di alcune lettere, la A, la TR, la P, ognuno magari ha la sua privilegiata in negativo, ma riprenderne il controllo vuol dire togliere la paura e comprendere anche quello che naturalmente fai di corretto quando sei fluido, perché ricordiamoci con balbuziente non è una persona che balbetta costantemente, anzi per lo più parla benissimo, tranne. Il secondo aspetto che trattiamo in psicodizione è quello proprio del gestire l'emozione. Ti alleniamo a imparare a usare l'ansia a tuo vantaggio, ti accompagniamo nella tua vita professionale, lavorativa, scolastica, familiare, amicale, a ottenere i tuoi risultati fuori dalla stanza di lavoro con noi, perché è lì nell'imprevisto che spesso si manifesta. E quindi alleniamo te a nuove capacità relazionali, abilità che devi risviluppare per sentirti comodo nella relazione con l'altro nella vita in generale. In psicodizione lavorano psicologi, formatori, educatori e quanto durano di solito? Lavoriamo una settimana in maniera intensiva tutti i pomeriggi dalle 15 alle 20 e 30, sono tante ore di lavoro in gruppo, ma molte attività sono individuali, perché sebbene in gruppo possiamo confrontarci e stabilizzare la parte tecnica, poi le paure e chiaramente le fragilità o i punti di forza sono peculiari per ognuno. E quindi ci sono tante attività sulla parte emotiva dove ognuno dei ragazzi, dei bambini o degli adulti viene guidato da un tutor, da un coach che li accompagna nel loro mondo personale, ottenendo i risultati. E quindi è molto bello e soprattutto il dopocorso è molto ben strutturato in psicodizione perché è lì che facciamo la differenza.